Ciao colleghi, abbiamo già visto come la linea Keratin all'interno del mondo Genus sia il perfetto anti-age, ideale per trattare tutti quei capelli danneggiati a livello cuticolare, spenti, stanchi, opachi, ruvidi, che tendono ad annodarsi. Abbiamo visto come la giusta detersione sia data dallo shampoo Keratin e come sul lungo periodo la maschera Keratin permetta di ripristinare questi danni. Abbiamo visto come la nozione Keratin sia perfetta per nascondere il danno ed avere immediatamente una piega effetto wow, ma a volte i danni sono talmente profondi che tutto questo potrebbe non bastare. Per questo a mali estremi, estremi rimedi, iniziamo a tirar fuori l'artimeria pesante. Keratin, trattamento ristrutturante doppie punte, una soluzione fluida ad alta concentrazione di collagene, keratina, acido ialuronico e sericina, ideale per essere applicata esclusivamente nei punti di maggiore danno. Ad esempio, quando abbiamo la classica capigliatura decolorata, ma con aree particolarmente danneggiate o con le punte completamente esplose, io amo andare a lavare con shampoo Keratin, trattare con la maschera acidificando e nutriendo la struttura, per poi applicare la nozione Keratin su tutta la lunghezza. Ma in questi punti di maggior rottura, di maggiore danno, solo sulle singole doppie punte più radicate o solo nelle bolle di rottura del capello decolorato, applico poche gocce di lozione ristrutturante doppie punte Keratin. L'arma estrema contro i danni capillari. Provate amici!